Noi faremo del nostro meglio, come sempre, cercheremo di accontentare tutti perché il nostro repertorio va dagli anni 60 fino ai 2000, quindi più giovani e anche meno giovani. È una cosa importantissima perché la musica non ha età. Assolutamente no, non ha età, non ha colori, non ha razze, non ha distinzioni di nessun tipo, la musica è una passione e fa bene a tutti. Il 31 su cosa avverterai specificamente? Hai detto proprio vari periodi musicali. Sì esatto, noi ripercorriamo un repertorio che va dagli anni 60 fino ai 2000, per ogni decennio presentiamo un medley con i più grandi successi italiani e uno con i successi stranieri. C'è addirittura una nuova voce fuoricampo all'inizio di ogni decennio sostanzialmente che poi presenterà quelli che sono i fatti principali avvenuti nel decennio appunto che andiamo a presentare. C'è per tutto il concerto una videoproiezione che ci accompagna con i video originali insomma e delle canzoni per cui sì, non solo musica ma anche spettacolo. Quanti siete nel gruppo? Siamo sei. Allora mi raccomando vi aspettiamo numerosissimi sabato 31 luglio ore 21.30 a BCC Arena. Allora mi raccomando vi aspettiamo numerosissimi sabato 31.30 a BCC Arena.